Il Presidente di Banca Nuova Marino Breganze, il Direttore Generale dell'Istituto Umberto Seretti, il Vice Direttore Generale Mario Lio e numerosi clienti ed esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale ed economico locale. La filiale è ubicata nella centralissima via di Polito, all'angolo con via Loriedo, nel centro economico e commerciale della città di Lamezia. È una banca che è nata nel sud e vuole operare nel e per il sud, portando quelle tradizioni della nostra capogruppo, che poi è la Banca Popolare di Vicenza, che ha contribuito a rendere grande sotto il profilo economico il nord-est d'Italia. Ecco, noi vorremmo con la stessa mentalità, con lo stesso modo di operare, riuscire a far diventare grande, a far emergere intanto l'economia del sud Italia. Ci stiamo provando significativamente sia in Calabria sia in Sicilia e devo dire che i risultati ci danno ragione, perché siamo riusciti ad aiutare molte imprese a crescere, a svilupparsi, a iniziare a operare con l'estero, cosa in questo periodo importantissima. E la riprova del fatto che siamo soddisfatti dei risultati ottenuti è, come anticipavo poc'anzi nel saluto dato in sede di inaugurazione della filiale, il fatto che mentre purtroppo molti istituti bancari stanno chiudendo sportelli, noi aumentiamo il numero degli sportelli e dove non siamo presenti vogliamo essere presenti, proprio perché pensiamo di poter contribuire ad aiutare imprese e famiglie. Vorrei dare un dato che credo sia importante, nel sud Italia dove operiamo noi investiamo nel territorio più di quanto raccogliamo, solo per dire che veramente vogliamo aiutare il territorio. Perché la Mezzia rappresenta uno dei mercati più importanti del meridione, del sud dell'Italia, ancora non eravamo presenti, abbiamo oggi colmato questa lacuna. Sì, abbiamo le nostre 15 filiali che riposizioniamo facendo sempre nuovi investimenti, siamo apparsi da poco a Siderno, a Vibo Valencia, ora a La Mezzia, ma non ci fermiamo qui. Tindico, un'altra realtà importante per la Mezzia Terme? Guardi, speriamo. Alla Mezzia non mancano le banche, manca il prestito per gli operatori economici, per i commercianti, gli artigiani, gli agricoltori, le famiglie a nostra città e non solo alla Mezzia, ma anche in Calabria. Questa banca si chiama Banca Nuova. Mi hanno detto che finora loro in Calabria prestano il doppio dei risparmi che ingambrano. Beh, se continuano così è una buona cosa. Quindi io che cosa mi posso augurare? Io mi auguro non soltanto che ci sia un'inaugurazione come c'è oggi, ma che insieme all'inaugurazione ci sia un sollievo per l'economia della città. Grazie a tutti. Grazie a tutti.